Allora ragazzi stiamo per vedere una cosa bellissima, due reggine sullo stesso telaino proprio, adesso ne vedo solo uno, vabbè comunque una è questa qui, eccola, la vedete? Comunque spero che, ah eccola, una è qui, sta camminando, eccole sono tutte e due vicinissime, eccole, eccole, ecco lì le due reggine, eccole, in pratica sono due reggine e stanno sempre vicine, la seconda volta ti apro solo che la volta scorsa non avevo il telefono e sono sempre vicinissime, eccole qua, una è con la testa dentro, l'altra adesso si sta abbinando, avvicinando, è proprio qui nell'angolo, spero che riuscite a vederle, in pratica in quest'arne ci sono due reggine, l'altra è questa qua, quella con la testa dentro, una è questa, non riesco a vedere bene perché ho, eccole, eccole qua, tutte e due, tutte e due le reggine vicine, si stanno proprio toccando adesso, eccole qua, spero che venga bene il video perché ho il, la tuta, eccole, 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 adesso si vedono benissimo, le due reggine sempre vicine, lavorano insieme, eccole qua, eccole, una a fianco all'altra, e così, in questa cassa ho due reggine che sono sempre vicine e che lavorano insieme, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi se è una cosa che è successa anche a voi, qualche volta, qui ce n'è una, eccola, ditemi se è una cosa che vi è capitata, per me è la prima volta, dopo cinque anni di apicoltura, questa è la prima volta che vedo due reggine nella stessa arnea, non so come sia capitato, comunque eccole qua, ciao a tutti, a presto!